Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex, ma soprattutto ben ritrovati con Nicolas e oggi andremo in mondo sopravvivenza Minecraft. Si sta generando, preparatevi oggi. Andiamo a caccia di zombie, Nicolas? Eh, sì! Andiamo a caccia di zombie, quindi. Quindi preparatevi, sta partendo. Eccoci qua, via. Si parte. Vi devo far vedere una cosa, la mia casa. Fai prima a vederla a casa, però attenzione perché intorno potremmo trovare delle brutte sorprese. Eh, si. Qua ho fatto tipo cose, cose qua che, perché se io tipo mi devo proteggere qua, mi metto qua per proteggere, dopo se al pozzo, dopo faccio così, dopo esco. Questa è la mia protezione. La tua protezione sott'acqua. Si. Andiamo a caccia di zombie, andiamo a trovarli un po'? Si, un po'. Ma secondo me verranno loro a trovarti, adesso che ti vediamo in giro. Aspetta, vedo la caccia di zombie di acqua. Dove siete? Zombie qua sotto. Dove siete, bellini, aiuto? Eccoti qua. Ah, no. Zombie anche sott'acqua, via. No, uno, uno. Questi sono... Attenzione, arriva, arriva. No, 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 su, 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 su. Come si chiama? Scriveteci nei commenti come si... Eh, dai, la mette due. Sì, infatti, scriveteci nei commenti come si chiamano questi... Scappo, scappo, scappo. Questi mostri d'acqua. Ma non sono tipo gli squali? No. Sono affogati. Affogati. Ehi, scappo, che mi interessa. Scappo io. Un maialino. Che carino. Poi guarda, c'è la codicella. Come maialiale big, come si dice. Ok, ci siamo. Allora, vediamo cosa c'è qua. Una bustola! C'era anche del pane, comunque. Eh? C'era anche del pane, se devi mangiare. Ehm, no, non mi serve. Vabbè, prendo un pane. Un pane. Ma c'è la bustola, dove vado? Dove devo andare? Allora, a destra? Sinistra? Ma io andrei... Dito? Un mucche, un mucche. C'è, c'è il latte? No, non c'è il latte. Fa... Attenzione, guardiamoci sempre alle spalle, perché secondo me ho gli... Ah, ah, ah! Gli zombie. Che c'è? Se mi vedo zombie, faccio... Ah! Ah! Vai, andiamo un po' in giro a cercarmi. Oh, ah! Andiamo verso di qua. Verso di qua. Vai, vai, vai. Sì, se troviamo una palude scappiamo via. Beh, è normale. Sì, non dobbiamo trovare mai la palude, che quelli... Eh, non... Quelli non ti devo parlare quanti... Qui non c'è nessuno, però, eh. Ah! Un asino, carino. Un asino no. No, un asino non mica ci ammazza. E' tranquillo, fa cose. Allora, almeno qualche zombie, conta che c'è. Allora, vai, vai, andiamo avanti, andiamo avanti, mi sa che li troviamo, eh. Se andiamo a cazzo. Anzi, se... Noi potremmo tipo andare là sopra la montagna e vedere dove ci sono. Allora, vai, via. Oh! Trovo io un altro villaggio. No, in atto. Oh, ragazzi, ho visto... Non vai sopra la montagna. Io ho visto la palude, ho visto la palude. C'è la palude, raga, c'è la palude. È la palude! C'è la palude! Dov'è la palude? Là, là, visto? Ah, ok, ma tu vai sopra la montagna. Vediamo? Ci sono... Oh, mio Dio, raga, vedete là? Ci sono pure i ghiaccioli. Ok, via. Come vado? Ecco qua, ecco che ci vai. Così bisogna andare su. Vai, 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 vai. Ragazzi, voi avete fatto il villaggio di Natale? Wow, che muore. Ah, no, sei caduto. Oh, bene, me ne faccio. Eh, guarda, questa è una bella scala da far su. Vai, vai, vai. Oppere. Ecco. Oppere. Ok. Non c'è il modo per andare su. No, gira a destra. Qua? Destra. Ok. Beh. Oh, sono su. Ok, ci siamo, ci siamo. Palude! Scherzati, l'avevo detto? Ah, sì, è vero. Palude! Anni, ma vede la palude, zio? Ma se mi hai detto che non volevi andarci. Però ti devo far vedere cosa c'è la palude. Guarda, io andrei di là, vai dritto, vai dritto. Oh, zio! Stiamo ancora in alto. Raga, raga, se troviamo i villager cattivi con la torre... Allora, no, qui non... Così ci fanno, zio. Oh, eh no, quello è un asino, quindi... Zio, no, è un cavallo. Lo sai, se vediamo i villager cattivi, col castello ci fanno così. Eh? Ci fanno a scherzcine. Fanno il segno del tagliagola. Fanno scherz, ci fanno a scherzcione. Allora, però qui, vedo, è abbastanza tranquilla qui. Qua, sì. Mi posso creare queste cose, zio. Vediamo cosa mi posso creare. Dimmi che mi posso creare una spalla, una spalla, una spalla, una spalla, una spalla, una spalla. Vai sulla spalla. Vai sulla spalla, non dare un'armatura, non dare un'armatura. Per favore. Niente. Aspetta, non qua. Se facciamo così... Ah! No, niente, mannaggia! No. Che cosa è caduta? È una pazzanghera! Vabbè, 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 vabbè. Ok. Vai. Vedi cosa, c'è una mucca. Una mucca e una pecora. Una caverna! Chi ci sarà mai qui dentro? Ci sono zombie, cose, creeper. Sì? Sì. Non c'è nessuno. No, no, devo mangiare, 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 devo uccidere, raga! Eh, vabbè. Mi prendo un po' di bastonate, ho capito, raga, che è una cosa cattiva, però chiedevo, vedete che la mia sbarra cade? Dopo ti ripieni, giuro, dopo tu li lasci, li riascono le tue amiche. Dai, 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 dai che la mangi. Oh! Non, 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 la carne. Anzi, dove me l'hai da te? Non dobbiamo. Vai, vai, mangia. Ehi, sta arrivando la notte. Va bene. È un pollo, un pollo, questo voglio mangiare, questo, mi ho. La mucca poi, pure la mucca, la mucca, eh. Non la mucca vuoi mangiare. La mucca, sono ciccione così. Dai, guarda me, voglio mangiare. Ma perché non aumentano i cuoricini, punto interrogativo? Più animali, più animali c'è, più? Raga, per, c'è, se arriva l'altro zombie, qui ci ammazza. Ci ammazza, c'è, raga, ci ammazza. Tu dici? Ci ammazza, sì, ci ammazza. Te lo dico, ci ammazza. Mi prendo sto maialino. Ah, ma mi sa che devi riposare. Devo riposare. Eh, sì. Trofeo guadagnato, costoletta. Che significa? No, costoletta dove? Eh, eh, costoletta dove? Dove è costoletta, zio? No, trofeo guadagnato, mi dice. Oh, chi è quello? Un ragno. Un ragno di panino. Però, zio, non mi fa niente perché solo alla notte se gli do un pugno, lui, mo' il mio ammazza. Non voglio per fare. No, no, dai, dai, per favore. Io ti ammazzo, io ti ammazzo, io ti ammazzo, io ti ammazzo. Ragno. Ah! Schifo, schifo, schifo. Odio i ragni, io odio i ragni, zio. Ah, però vedi che ti stava insegurando. Non me lo posso mangiare questo occhio di ragno. Ma che schifo il ragno. No, è all'occhio di ragno. Bah. Che schifo. Raga. Decidiamo. Oh. Facciamo che. Zio, io voglio andare a caccia di zombie. Eh, beh. Quanti li vedi, andai? Almeno uno, cioè. Una cosa. Eh, ma andiamo avanti, andiamo avanti ad esplorare. Vai, vai. Fuori dalla padua. Aspetta, aspetta. Secondo me bisogna aspettare la notte. Ah, sì. Eh, allora fatte notte, fatte notte, bello mio. Dormi il giorno e dopo ti fai bella notte, ti fai notte. Quindi vai sopra la montagna di nuovo? No, ancora questo è il mio bastoncino. È meglio dare nessuno il sacco. Adesso sai proprio l'energia al massimo. Che sono tre, zio. No, sì. Sei a tre e hai anche i cuoricini al massimo. Bah, 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 bah. Amo. Voi, raga, ci avete tipo questa, come si dice? PlayStation? Tu che PlayStation hai, zio? Questa è la versione per PlayStation 4. Ok, siamo in cima alla montagna e non c'è nessuno. È un maiale? Cioè, c'è solo la mucca. Ma c'è un vulcano, non sbaglio? Non è un vulcano, vado a morì. Ciao, raga, vado a morì. Com'è che mi treva da morì? No, andiamo, vai avanti di là. Ah, sì, sì. Mi hanno detto che là c'è, tipo, quando lì c'è una casa infestata di villaggi cattivi, che loro ti ammazzano di creeper, di cose, di cose. Tu dici che lì c'è una casa infestata? Eh, magari sì. Se non lo troviamo, sono uno scemo. Eh, ma non c'è nessuno, è quello il punto. Dove state finite? Ma secondo me dobbiamo aspettare la notte. La notte, secondo me, diventa movimentata. Quanto? Diventa movimentata e gli zombie spuntano a destra e a sinistra. Quindi, intanto ti conviene lasciare la palude, perché ti stai affattendo. Fa schicola la palude. Ti stai affaticando, quindi. Poi c'è puzza. C'è puzza anche? C'è puzza, che schifo. Che schifo. Infatti, vedi, ci vede anche poco sotto. Ci vede poco. Cioè, perché stiamo in silenzio? Perché sto guardando fin dove arrivi? Qua. Allora, c'è via il bastone, zio. C'è via il bastone. Allora, fuori dalla palude. Sì, ho ragione. Se troviamo... Allora, zio, se troviamo la casa infestata, tu sei uno scemo. Ma se io non la trovo, sono io uno scemo. Perché devo essere scemo io? Scusa. Eppure io se non la trovo via. No, no, no. Ma se vuoi esplodimi, se vuoi esplodimi, se vuoi esplodimi, se vuoi esplodere. Eccolo qua. Fami la strada. Ammazza, ammazza. Corro via, 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 via. Ciao, ciao, ciao. Che questo esplode... No, no, per favore, no, per favore. Ah, esplode. No, per favore, no, per favore. Per favore. E esplodi qua, esplodi qua. Esplodi qua. Tu non fai niente. Tu non fai niente. Esplodi. Occhio che arriva, eh. Non fai niente, esplodi niente. Ah, allora? Perché se metti nell'acqua, se no, se metti nella terra esplodi così. E ti fa... Tanto danno. Mi ha tolto solo due cuori. E dai, veramente mi ha fatto andare indietro, stupido creeper di corno. Funghi, che schifo che siamo di una palude. Ragazzi, che cosa ho trovato? Che c'è una cesta. Oh! Questo è il mio, il mio. No, ma il mio, il mio, il mio, il mio. Il mio, il mio, il mio. Il mio, il mio, il mio. Il mio, il mio, il mio, il mio. Quasi le sono le ruba, sono miei, eh. E cosa hai trovato? Guarda. Oh, i gambali d'oro. Sì, che belli. Indistruttivi. Oh, un po' di, un po' d'oro. Che bello, che bello, che bello. Alla fine stiamo andando a caccia di oro o di zombie? Eh, di zombie, di zombie. Di zombie, ma troviamo l'oro, però. Sì, ma ci serve l'oro per fare cose potenti. No, dai, io ti ammazzo, io ti ammazzo. Cos'è me faccio un cane? Me faccio un cane, ti ammazzo. Dai, veramente, non fa me ammazzare, non per me ammazzare. Mi ammazzare. Ok, è andata. No, dai, veramente. Non penso che... La mucca, però secondo me sta scappando. Per cosa? Eh, probabilmente... Aspetta, se vediamo qualcosa di qua. Farò vedere se vediamo qualcosa di qua. No? Allora sono uno scemo. Ma allora a questo punto non ti conviene andare in cima, ti fa una collina e vedere... E non do quale collina? Ah, non c'è qua. Qua in cima, all'albero. Qua. Non vedo niente. Hop. Hop. Un miele, c'è il miele, zio. Su. O mi sembra un miele o d'oro. Che cosa? Ah, ma è un ragno, che meno male. No, dai, insieme, allora siete scemi. Allora siete scemi. Rega, veramente. Vabbè, facetemi morire su quella scema. Ah, stanno arrivando tutti adesso. Dai, no, no, no. Perché? Io, oddio. Così non mi vedete. Ti nascondi? Scusa, non dovevi andare a caccia? Eh, però ho paura di scheleti, c'hanno l'arco. Come c'hanno l'arco? C'hanno l'arco, quindi c'hanno l'arco. Tu non sei proprio niente di Minecraft. Eh, io so poco di Minecraft. Io so tutto di calcio, ma di Minecraft proprio niente. Oh, campo aperto. Campo aperto. Una montagna, no, quella è la palude, che schifo. Un'altra palude. Non era quella di prima, no. Un'altra palude. Vai, vai, intanto andiamo. No, papà, no. Dai, che schifo. Vabbè, andiamo a... Vai verso quella montagna lì. Sì, io però, noi ci vogliamo cento. Aspetta, mi faccio un cavallo? Dai, zio, magari potremmo fare tipo lassù una casa, eh? Vicino alla palude? Al limite, a fine video, ci posizioniamo lì e al video dopo facciamo la casa. Tu che dici? Sì, sì. Intanto esploriamo e andiamo a caccia di zombie oggi. Eh, se no, zio, io voglio... Caccia di zombie e scheletri. No, scheletri no, pure creeper, però non scheletri. Dai, perché mi muoio? Ma il nostro ragno? Ma mi ammazzo. Au. Ah, c'erano già le pecore. Dove i cuori sono? Mi rimanano due cuori, se mi ammazzo. Vabbè, mi ammazzo, mi ammazzo. Che mi interessa? Mi ammazzo, mi ammazzo. Perché? Perché? Io mi ammazzo. Ma no. Ma come posso dare un pugno? Vabbè, un pugno, zio, perché mi posso dare? Voglio un altro, dai. Dai, veramente voglio... Aspetta, zio. Un trip assalto lo vuoi, zio? Come un trip assalto? Guarda. No, rinasci, dai, rinasci. Vai. Dove sono rinasciuto? Eh, sì, ti pareva? Dove è il villaggio? Da questa parte. Meno male che vado a casa mia, zio. Torni a casa a sto punto. Magari è piena di zombie. Eh, sì. Dai, 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 i zombie, i zombie. I zombie che vogliamo. Ah, sì, è diverso. Allora, hai visto? Zombie, zombie, zombetti. Guarda, zio, se andiamo qua sotto e vedi tutti i zombie. Guarda, c'è un altro là. Con la conchiglia. Dove sei i zombie possono prendere gli oggetti? Eccolo là. Ma, scusa, stiamo andando a cazza, andiamo ad ammazzarlo? No, lui. No, l'ha affogato. Lui l'ha affogato. L'ha affogato. Zombie, zombie. Dai, zombie. Mi sa che non siamo fortunati. Eh, sì. Non siamo fortunati. Che bello. Niente zombie. Sì, perché poi i zombie non si fanno fuori perché è un po' giorno, visto. Secondo me bisogna aspettare che arrivi notte. Quanto arriva notte, raga? Già notte qua. Dove è mia casa? Ah, eccola qua la mia casa. Che bella. Ti piace la mia casa? Dopo la facciamo più bella. Anzi, zio, rubiamo il castello. Ma che vuoi? Dovevi rubare il castello. Rubiamo il castello. Questa cosa è mia. Questa cosa qua è mia, vedi? Guarda, ha fatto un ponte che mi ammazzo. Qua ha fatto un ponte paglia. Un ponte paglia. Eh, eh. Non mi fai andare? Au. Eccoci qua. Qua c'era il golem. Dov'è il golem? Mi sa che il golem è andato. E se è andato... Anzi, mi ricordo, l'abbiamo noi ammazzato. L'abbiamo noi ammazzato. Perché mi tocchi così? Ti strappo la mia. Ti sto facendo il solletico sulla schiena. No, c'è. Ah, quindi adesso andiamo... Siamo in piena notte? No, no, no. Dai, così almeno non arrivano più zombie. Dai, veramente. Vabbè. Non siamo sfortunati, neanche erano zombie. Nemmeno zombie. Magari l'altro ne erano zombie. Là. Là c'è qualcosa, zio. Cioè, dimmi che c'è... No, c'è i miei gambali, che bello. I gambali d'oro? Eh, i gambali d'oro. Poi erano inciantati, zio. Erano inciantati, erano più forti. Qua c'è una cesta. Una cesta. Niente. Ah, ah, ah. Stai bruciando. Eh, sono morto un'altra volta, bello, però sono andato a mia casa. Aspetta che sono... Così almeno tutti si svegliano. Vediamo che succede. Zombie, venite! Eh, gratis zombie! Non arriva più giorno, gratis zombie! Ah, cervelli per tutti, cervelli! Volete avere il mio cervello? Se lo volete prendete il mio cervello! Niente. Non rispondo. Stupidi zombie, di coso? Vediamo se qui sotto c'è qualcuno. Io ti faccio vedere cosa c'è qua, eh. Vai, 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 vai. Oh, è tutto buio. Non mi aspetto niente. Zombie, no! È male che c'è? C'è il bosco. Ci andiamo al bosco? Eh? Zio, magari... Mm-hmm. ...per me... ...potremmo qua... ...intanto rompiamo sto blocco. Sì, ma che devi fare? Tipo, noi cerchiamo un giardino e là facciamo la casa. Però non c'abbiamo blocchi. Dai, qua potremmo fa... Eh, sono in creativa! Possiamo andare in mondo creativo, zio? Ma io oggi finiamo qui. Allora, vediamo... Oh, 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 uh, uh. Cos'hai trovato? Uh, 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 uh! Villaggio, 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 villaggio. Da dove? Villaggio! Zio, che, sei sordo? Ti devono metter gli occhiali? Sono cieco, casomai! oh sennò ti posso mettere gli occhiali zia vai vai sennò ti faccio andare sentendo dentro minecraft ti do puni no perché non mi vuoi bene si ti voglio bene però se fai così non va bene vai 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 ma voi vi siete sposati zia e tu zio vi siete sposati no dai per favore vicino a palute no non siamo sulla palute però è vicino un po' una palute per me vabbè sono scemo la palute è qua non c'è la palute vabbè raga sapete cosa faccio trovo qualcosa aspetta vedo cosa c'è in questa casa oh figa cioè figa io qua ci vivo qua è la mia casa è la mia casa è la mia casa non c'è nessuno dentro vabbè questa è la mia casa zio è la mia casa zio questa è la mia casa questa non è mia allora io mi prendo una casa se io rubo una casa al villager l'ammazzo no non ci sono neanche i villager cattivi eh no i villager normali ci dovrebbero essere vabbè lì svegliatevi che mattina qua niente niente la cazzo agli zombie è andata male zombie 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 ammazzare zombie zombie ammazzare un po' di zombie qua e voglio uno zombie qua tu dici che sono lì qui sotto si voglio zombie zombie tutti zombie un creeper uno zombie zio oh finalmente vai qua zombie vai qua vai qua vai lì ma tu dici che ti segue alla notte lo zombie zombie pelo ecco allora arrivo al creeper quanto sono le armi si ammazzato dai stupido creeper ma ti ammazzo ti ammazzo io ti ammazzo io ti ammazzo io ma ti ammazzo io ma ti ammazzo guapa 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 ce l'abbiamo fatta mi sta ammazzare però lui eh dai un cuore c'è un cuore cuore eh no ce l'ha fatta lui mannaggia ti odio 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 zio però io veno zombie eh secondo me bisogna aspettare la notte vabbè vado a cacciare questi affogati vuole un pesce un pesce un pesce un marluzzo un marluzzo un marluzzo un marluzzo vabbè c'ho le alghe schifo vabbè che le metto a fa che faccio mi faccio morizio no perché anzi io mi fermerei a no ancora ma no dai mezzo cuore devo avere niente è andato allora lo sai cosa io direi a sto punto interrompiamo qui perché gli zombie non arrivano ne abbiamo trovato solo uno lo sai cosa farei io cosa? ma intanto io li saluterei tutti nel prossimo video torniamo nell'altro mondo invece nel mondo creativo che dici? sì e allora saluto a tutti ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video giusto? sì e saremo in modalità creativa però creativa c'è già una cosa perché la caccia agli zombie oggi è andata male sì è andata male non c'è solo un zombie poi ci ha sconfitto lui lo zombie e allora è andata male oggi quindi ciao a tutti ciao ciao